Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Ho il piacere di presentarvi l'ospite. In collegamento con noi oggi c'è Don Cecotti, vicepresidente dell'Osservatorio Fantuan. Grazie Don Cecotti per essere con noi. Grazie a lei dell'invito e un saluto a tutti gli amici di Visione TV. Intanto spieghiamo a chi ci guarda cos'è l'Osservatorio Fantuan. Lei è anche parroco a Trieste, però è protagonista di questo importante osservatorio. Di cosa vi occupate? L'Osservatorio è un centro studi fondato nel 2004 dall'Arcivescovo Gian Paolo Crepaldi, allora segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Per chi magari non è esperto di cose vaticane, diciamo che le congregazioni e i pontifici consigli sono i dicasteri della Santa Sede. Ogni dicastero ha un prefetto o presidente, che di solito è un cardinale, e un segretario che di solito è un vescovo o un arcivescovo. Il presidente o prefetto è quello che dà l'indirizzo politico, potremmo dire così, al dicastero, mentre invece il segretario è quello che concretamente dirige il dicastero stesso, dirige la macchina operativa. Monsignor Crepaldi all'epoca era segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace e aveva collaborato con il cardinale Van Thuan, che era appunto il presidente del Pontificio Consiglio. Quando il cardinale Van Thuan nel 2002 muore, Monsignor Crepaldi in qualche modo si fa carico dell'eredità morale e spirituale di questo cardinale vietnamita e poi nel 2004 fonda l'osservatorio. L'osservatorio ha come sua finalità lo studio e la promozione della dottrina sociale della Chiesa. È una realtà internazionale, anche se prevalentemente opera sul territorio italiano. La sua sede è in Italia, le sue attività sono prevalentemente in Italia, ma abbiamo attività e collaborazioni anche in Francia, anche in America Latina, qualcosa anche negli Stati Uniti e così. La finalità è quella appunto di far conoscere la dottrina sociale, che è questo ambito della teologia morale che si occupa delle realtà sociali, politiche e economiche alla luce della rivelazione cristiana. E poi in qualche modo non solo farla conoscere, ma anche fornire una lettura alla luce di questa dottrina sociale della Chiesa di un po' tutti gli eventi che accadono nel mondo, le varie dinamiche economiche, politiche, giuridiche, insomma attinenti a questa sfera di sapere. Ecco, insomma, tante generazioni di politici orientati cristianamente si sono formati studiando la Rerum Novarum di Leone XIII del 1883. Prendete da lì voi lo spunto per lo sviluppo delle vostre tesi, oppure avete altre correnti, ci sono altri filoni più moderni che interessano i vostri studi approfondimenti? No, assolutamente lei ha colto nel segno. Diciamo che se dovessi dare una definizione sintetica della linea dell'osservatorio lo definirei un osservatorio molto classico, nel senso che noi facciamo riferimento alla dottrina sociale della Chiesa nella sua classicità. Solitamente quando si parla di dottrina sociale della Chiesa si fa riferimento a Leone XIII, un po' come il papà di questa disciplina. In realtà bisognerebbe dire che la dottrina sociale della Chiesa è antica quanto è antica la Chiesa, perché la Chiesa da sempre si è occupata di questioni politiche, economiche, sociali, giuridiche. C'è però da dire che con Leone XIII si arriva alla definizione di un vero e proprio corpus dottrinale, sistematico, organico, in cui la massima cattedra della cattolicità, cioè il papato, prende posizione in maniera appunto sistematica sulle grandi questioni appunto politiche, giuridiche e economiche. La Rerum Novarum è sicuramente un testo di riferimento e noi basiamo la nostra attività principalmente proprio sul Magistero di Leone XIII e diciamo sui papi anche che hanno seguito questa linea, quindi Pio XI, San Pio X, diciamo e arriviamo fino anche a Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, però sicuramente il nostro faro è Leone XIII. Ecco, per chi non è avvezzo con questi studi, la Rerum Novarum offre ai credenti, ai cattolici, una terza strada rispetto al cinismo del liberalismo classico e all'idea invece della necessità della costruzione di una dittatura, dei segmenti proletari per cambiare completamente l'ordine delle cose. Quindi diciamo che è una terza via che poi si impone sul piano storico perché è l'unica che è rimasta viva all'indomani della caduta dei muri. Ecco, questo ho sintetizzato in maniera estrema. La ringrazio della sintesi. Diciamo che la grandezza di Leone XIII sta nell'avere in un'epoca peraltro molto difficile perché quando regnava Leone XIII il papato era stato da poco privato del potere temporale, il suo predecessore Pio IX era stato cacciato da Roma, cioè dal governo della città di Roma, era stato rinchiuso in Vaticano, la chiesa era isolata dalle potenze dell'epoca, anche perché le potenze dell'epoca erano fortemente connotate in senso liberal-laicista. E quindi Leone XIII fa questa enorme opera di ricostruzione del ruolo della chiesa, della santa sede nel mondo e in questa opera grandiosa si colloca anche il suo corpus dottrinale e sociale in cui ripensa e propone in maniera autorevole una visione di Stato, una visione di diritto, una visione di economia, il rapporto tra le classi, insomma un'idea anche di partecipazione del popolo alla cosa pubblica. Insomma è veramente un disegno molto ampio che purtroppo è stato un po' dimenticato. Oggi anche nel mio ambiente, quando dico mio ambiente intendo i preti, insomma il mondo ecclesiastico, sono veramente pochi quelli che conoscono e portano avanti il pensiero appunto della dottrina sociale classicamente intesa. Ecco, e poi c'è da dire che con la fine della Prima Repubblica i partiti cristianamente orientati, che poi non sono mai stati partiti confessionali, anzi erano partiti che conoscevano bene la differenza tra una ispirazione filosofica e una connotazione organica di stampo teocratico. Con la fine della Prima Repubblica questo rapporto spirituale si è completamente reciso, ma forse non ha fatto bene alla politica italiana nel suo insieme. Perché quella terza via tra il materialismo storico di stampo comunista e il capitalismo sprenato caro alle democrazie anglosassoni aveva trovato in Italia una terza strada vincente, cioè un kinesismo moderato che aveva permesso a tanti di superare la soglia di povertà, vivere dentro un contesto tutto sommato dignitoso, senza scadere in nessuno dei due estremi. Ha fatto male, secondo lei, la fine dell'impegno dei cattolici in politica alla nostra democrazia? Allora, sicuramente ha fatto male, anzi è un vero dramma, perché noi oggi viviamo un cattolicesimo che non si riesce più a esprimere in forme sociali, politiche, direi persino culturali. Siamo in una sorta di afasia culturale del cattolicesimo. Anche nelle ipotesi migliori, cioè anche nelle espressioni migliori del cattolicesimo contemporaneo, siamo confinati nell'ambito o del devozionale o del pietistico o comunque dello spirituale a livello soggettivo personale. La dimensione pubblica del cattolicesimo come proposta di una societas, di un'idea di mondo, di un'idea di stare assieme, di collettività, si è persa per strada. E questo ha fatto enormemente male al cattolicesimo e fa male anche alla cosa pubblica, perché si perde quella tradizione luminosa e millenaria che appunto è la tradizione cristiano-cattolica. Dico però solo una cosa rispetto alla sua domanda premessa. A mio avviso, ma ovviamente è la mia opinione, quindi confutabilissima, i problemi erano già precedenti, perché in fondo la proposta di Leone XIII, di Pio X, di Pio XI, cioè dei grandi papi che si sono in qualche modo confrontati con la modernità ideologica, era già stata disattesa. Perché dico questo? Perché se noi per esempio pensiamo alla loro concezione di diritto, che faceva riferimento in maniera netta al diritto naturale, cioè l'idea che tutto l'apparato giuridico dovesse fondarsi su un ordine naturale di giustizia, la loro idea di Stato in cui qualche modo la res pubblica era concepita non nel senso della sovranità moderna, cioè come non riconoscente un superiore, ma come una potestas, quindi come un potere d'ordine, ma in qualche modo subordinato a quello che è l'ordine naturale delle cose, quello che è diciamo l'ordine della creazione e in ultima analisi subordinato a Dio. E anche sul versante socio-economico la dottrina sociale della Chiesa proponeva una via che potremmo definire di collaborazione organica tra le classi, cioè l'idea che in qualche modo la vita economica fosse pensata non in maniera contrappositiva, conflittuale, ma in maniera collaborativa. Un modello di ciò erano il sistema delle corporazioni, ovviamente da non intendersi come il corporativismo fascista. Il corporativismo fascista non ha nulla a che vedere con la dottrina sociale della Chiesa. Perché? Perché il corporativismo fascista ha una chiara matrice hegeliana e concepisce le corporazioni come una sorta di manifestazione nel sociale e dello Stato. Mentre invece per la dottrina sociale della Chiesa le corporazioni cosa sarebbero? Sarebbero la organizzazione dal basso del mondo del lavoro, tenendo associato assieme sia chi lavora possedendo i mezzi di produzione, quindi gli artigiani, i piccoli imprenditori, coloro che insomma sono anche proprietari dei mezzi di produzione e anche coloro che invece sono salariati. Questa idea della collaborazione tra coloro che possiedono i mezzi di produzione e coloro che sono salariati nell'unica però impegno diciamo del lavoro era diciamo così il fiore all'occhiello della proposta sociale cattolica. Quindi questa sorta di interclassismo socio-economico. Questo purtroppo nel Novecento non si è realizzato, non si è realizzato in nessun paese europeo purtroppo. Quindi in qualche modo la dottrina sociale della Chiesa resta ancora come una grande un grande disegno che però non ha trovato dei realizzatori. Almeno questa è la mia così umile opinione. Forse paradossalmente i tempi sono maturi per fare oggi quello che non si poteva fare ieri anche perché adesso nell'economia reale i produttori e i lavoratori probabilmente combattono alla stessa parte della barricata contro un nemico più forte che è diciamo il padrone finanziario. Cioè questi capi di questa economia immateriale quasi magica alchemica che producono ricchezza dal nulla e in questo modo schiavizzano chi invece si confronta con la fatica del reale. Perfettamente d'accordo. Difatti io considero la dottrina sociale della Chiesa quella classica quella appunto ribadisco di Leone XIII o di Pio XI non come qualcosa del passato ma come un grande una grande prospettiva per l'avvenire. In fondo se noi vediamo la ricetta liberale sta manifestando anche a chi non se ne fosse accorto nei decenni precedenti ma sta manifestando ora il suo volto peggiore e la ricetta diciamo social comunista ha presentato il conto sia con il sistema sovietico ma anche ora pensiamo con il sistema cinese che presenta più di qualche insomma diciamo così per essere generosi qualche problema ecco la la proposta cattolica cattolica classica può essere veramente la risposta per il futuro cioè questa alleanza interclassista basata sulla centralità del lavoro quindi il lavoro come l'elemento unificante che tiene insieme i proprietari dei mezzi di produzione chiamiamoli capitalisti ma non nel senso del capitalismo nel senso di coloro che hanno il capitale in azienda e quindi imprenditori artigiani eccetera e i lavoratori salariati uniti nel comune lavoro per un'economia basata appunto sul lavoro e sulla produzione reale ecco questo può essere veramente una grande risposta per l'avvenire facciamo vedere uno degli ultimi lavori dell'osservatorio Fantuane eccolo qui quattordicesimo rapporto sulla dottrina sociale della chiesa nel mondo di che si tratta? allora l'osservatorio è nato nel 2004 da 14 anni diciamo con puntualità quindi ogni anno pubblica un rapporto sulla dottrina sociale nel mondo ogni anno su un tema monografico quindi viene scelto dalla redazione dell'osservatorio un tema e poi durante l'anno vengono elaborati degli studi delle ricerche dei saggi su questo tema alla luce della dottrina sociale quest'anno il quattordicesimo appunto rapporto è dedicato al tema della proprietà privata messo in correlazione con la libertà e chiaramente contrapposto quindi con una logica anche se vogliamo dire polemica e con appunto la sharing economy di impronta globalista ovviamente il rapporto guarda alla totalità del mondo quindi ci sono saggi che parlano dell'Africa che parlano dell'America Latina degli Stati Uniti dell'Asia dell'Europa eccetera e chiaramente però il taglio è quello appunto della dottrina sociale quindi si analizzano i problemi alla luce dell'insegnamento della Chiesa su questi temi quest'anno perché abbiamo scelto la proprietà privata perché riteniamo che la proprietà privata sia pesantemente sotto attacco pesantemente sotto attacco perché non è più funzionale alle logiche del sistema cioè se la proprietà privata fino a qualche anno fa era utilizzata dal sistema liberale per perpetuare se stesso oggi lo stesso sistema liberale non considera più la proprietà privata come funzionale a sé ma anzi la considera come di ostacolo perché perché la proprietà privata ad esempio lega le persone ai luoghi fisici lega persone e aziende rende in qualche modo stabilizza le relazioni crea dei vincoli dà spazi di libertà perché se io sono proprietario di casa mia o di un terreno o della mia azienda o eccetera ho degli spazi di libertà che non avrei se non fossi proprietario e così via quindi la proprietà privata diviene sempre più un ostacolo alle logiche chiamiamole liberal radicali oggi imperanti tanto più è importante sottolineare l'attacco che sta subendo la proprietà privata perché per la dottrina sociale della chiesa la proprietà privata è di diritto naturale quindi dicevo prima che la dottrina sociale della chiesa ha al centro il concetto appunto dell'ordine naturale di giustizia l'idea gius naturalista ebbene per la dottrina sociale della chiesa la proprietà privata è di diritto naturale cosa significa questo significa che non è una concessione da parte dello stato non è un qualcosa di convenzionalmente posto ma che potrebbe essere anche tolto è qualcosa che spetta per diritto che è qualcosa di iscritto nell'ordine naturale delle cose a questo riguardo volevo condividere con voi un passaggio proprio della rerum novarum di leone tredicesimo per dirvi anche la forza concettuale di questa enciclica dove leone tredicesimo scrive come l'effetto appartiene alla sua causa così il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora qui c'è il tema del lavoro e il tema della proprietà privata uniti in una sintesi perfetta cioè la proprietà privata è di diritto naturale perché è di diritto naturale cioè appartiene alla stretta giustizia che chi produce chi lavora goda dei frutti del suo lavoro sia proprietario dei frutti del suo lavoro ed è proprio quello che oggi noi vediamo messo in discussione con le forme però più suadenti cioè non magari con l'esproprio mano armata cioè con i carabinieri che vengono a casa a sequestrarti i beni personali ma con le forme che vediamo noi cioè colpire la casa colpire il risparmio creare delle pressioni perché la gente non voglia più avere la proprietà privata perché si creano talmente tanti gravami sulla proprietà privata che le persone stesse desiderano magari non averla più e invece si creano delle agevolazioni per delle forme di gestione dei beni non più nella forma della proprietà ma nella forma dell'affitto dell'easing appunto della sharing economy e questo chiaramente con tutto quello che ciò comporta anche a livello poi di organizzazione sociale ecco che è un po' lo slogan di Davos non avrai nulla e sarai felice esattamente forse sono loro oggi diciamo la guida e l'avanguardia concettuale di questo cambiamento epocale che non è segreto perché viene cristallizzato in studi libri che vengono pubblicati poi insomma se uno li vuole vedere e capire bene se no non c'è nessun mistero e qui c'è solo il desiderio di non capire e di non studiare in alcuni momenti è sembrato come dire che anche la Chiesa Cattolica sul piano filosofico si arrendesse di fronte alla ineruttabilità di questo percorso e quelli che in un certo senso denunciavano le follie e di alcune ricostruzioni vagamente definite progressiste venivano tacciati di oscurantismo passatismo tradizionalismo superato dai dai tempi ecco lei cosa risponde a chi bolla diciamo queste posizioni con questi epitri aggettivi ecco forse c'è un problema no forse sicuramente c'è un problema collegamento con Don Cecotti ecco vediamo se riusciamo a ripristinare rapidamente il contatto ecco non so se forse ecco un problema più serio mi fanno capire dalla regia ecco bisognerebbe si dovrebbe probabilmente ricollegare Don Cecotti vediamo se ci riesce ecco forse ce l'abbiamo fatta Don Cecotti mi sente? sì ho perso l'ultima domanda sì gliela rifaccio no io temevo di avere perso lei che era più grave perché una domanda si rifà le dicevo la chiesa in alcuni momenti ha dato l'impressione un po' di adeguarsi rispetto allo spirito dei tempi per tornare a Hegel e assecondando alcune insomma stravaganze di questo mondo che obiettivamente sembra per certi aspetti incompatibile con con i dogmi con con la difesa di una sia pensialità antica come quella che la chiesa cattolica propone chi ha provato a difendere diciamo un punto di vista alternativo rispetto a quello elaborato dai centri del potere più profondo è stato spesso bollato come passatista uno scurantista gente legata ad una visione apocalittica triste insomma della fede del credere è bollato in questo modo ecco lei cosa risponde a chi utilizza queste categorie? guardi lei tocca un tasto per me dolente perché lei può immaginare che come sacerdote io vivo quotidianamente questo stato abbastanza triste in cui si si trova la chiesa cattolica come le dicevo l'osservatorio si definisce si può considerare classico cioè fa riferimento a quello che si potrebbe dire il magistero tradizionale della chiesa io personalmente mi considero un tomista quindi il mio diciamo pensare il mio così strutturare le idee si basa sulla grande tradizione tomista e che fa riferimento appunto a San Tommaso d'Aquino quindi potrà facilmente capire qual è la mia posizione e anche il mio imbarazzo di fronte alle posizioni oggi prevalenti purtroppo la chiesa oggi dà spesso l'impressione di essere parte di quel sistema globalista che invece dovrebbe contrastare questo sia sulle questioni socio-economiche politiche ma da sacerdote ritengo ancora più gravemente sulle questioni morali sulle questioni anche della stessa proprio dogmatica molte volte noi abbiamo una voce ufficiale della chiesa che ricalca e in qualche modo amplifica o comunque rilancia le posizioni appunto più 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 sistemiche dominanti oggi io personalmente penso che dovrebbe invece fare il contrario cioè oggi ci sarebbe bisogno di una chiesa che avesse il coraggio di proporre integralmente il proprio bagaglio sapienziale la propria dottrina la propria visione del mondo dell'uomo di dio non avendo paura di essere in contrasto con il mondo e in contrasto con il pensiero dominante questo su tutti i versanti tanto più anche sul versante socio-politico fa veramente male vedere come le gerarchie non tutte per fortuna ma molte volte in qualche modo modellino il proprio parlare su quelle che sono le agende globaliste lei prima citava il forum di Davos oppure si potrebbero dire le agenzie ONU per quanto riguarda la passata crisi sanitaria quello che diceva l'OMS eccetera eccetera e in qualche modo si può fare una sorta di fotocopia e si trovano le posizioni le posizioni delle gerarchie cattoliche questo ovviamente a Dolora la risposta a mio avviso non può che essere quella di una solidità di dottrina che non si lascia in qualche modo scalfire dagli sbandamenti di questa nostra epoca così confusa e così ma è così problematica anche sul piano politico non è facile tradurre alcune lotte in forza per contrastare i poteri dominanti come ne sono accorta anch'io che ho cercato una sintesi fra il cattolicessimo democratico e diciamo l'ala più incline a difendere gli interessi delle classi subalterne anche perché da cristiano ho sempre colto nello spirito evangelico una predilizione per i sofferenti per i poveri per gli umiliati insomma per quelli che non hanno potere per cui ho pensato che fosse normale insomma cercare di trovare una sintesi all'interno di forze che in teoria vogliono migliorare la condizione degli oppressi però mi rendo conto che non è semplice unire sul piano spirituale una difesa di un'idea di trascendenza ispirata ai valori e alla fede non c'è da vergognarsi insomma alla fede nella rivelazione che però poi non si traduce in un approccio fanatico dentro le istituzioni che sono e devono rimanere laiche anche perché è lo stesso Cristo dei Vangeli che divide Cesare da Dio ma forse non sono ancora maturi i tempi per cercare di costruire una forza che riesca a recuperare un'idea di trascendenza alta in favore di un uomo che è troppo spesso relegato diciamo ad uno stato semi bestiale quasi fosse un ingranaggio di una catena materiale destinata a morire come muoiono e finiscono le macchine insieme ad una difesa dei ceti subalterni di quelli che sono schiacciati da questi padroni senza volto e suscita anche molte diffidenze questo approccio perché mi sono accorto ad esempio che tante parti del cattolicesimo cosiddetto tradizionale vedendomi vicino a Marco Rizzo hanno di fatto messo in piedi un felpato diciamo fuoco di sbarramento che però di sicuro non ha aiutato e agevolato questo tentativo guardi su una questione diciamo partitica o chiamiamola così di organizzazione delle forze politiche diciamo preferisco non così dichiarare le mie convincimenti anche perché rappresentando l'osservatorio Van Tuan l'osservatorio Van Tuan diciamo non ha una sua un suo collocamento una sua posizione partitica certamente però ritengo che sia necessario tenere insieme la dimensione religiosa la dimensione trascendente con l'impegno concreto sociale politico in questo le do perfettamente ragione in che senso nel senso che un grande pericolo per il cattolicesimo è quello della cosiddetta opzione religiosa della scelta religiosa che dir si voglia cioè sostanzialmente confinare la fede alla dimensione dell'interiorità dell'intimità della vita spirituale disincarnando il cristianesimo che ovviamente è un controsenso perché il cristianesimo è la religione del dio incarnato quindi disincarnare il cristianesimo vuol dire andare nella direzione contraria scelta da dio e questo rischio c'è per il lato cattolico dall'altro lato c'è il rischio sul versante invece chiamiamolo temporale di concepire appunto la politica l'economia la società come autosufficiente quindi come non bisognosa di redenzione non bisognosa di una luce che viene dall'alto non bisognosa di dio ecco entrambi i rischi purtroppo non sono solo rischi sono tragiche realtà perché perché noi viviamo in una società che non vuole saperne più di dio noi viviamo in una realtà che si professa apertamente secolarizzata cioè sostanzialmente dimentica del trascendente dimentica del divino e quindi tanto più della divina rivelazione e dall'altro lato abbiamo un mondo cattolico che si rifugia nel religioso inteso religioso nel senso che ho specificato prima cioè nell'aspetto devozionale sentimentale intimistico nella migliore delle ipotesi spirituali invece la grande tradizione cattolica ci ha sempre insegnato che il cattolicesimo il cristianesimo per sua stessa natura si fa cultura si fa civiltà si fa sistema giuridico si fa sistema politico cioè l'Europa cristiana era un'Europa in cui la totalità delle dimensioni dell'umano erano raggiunte dalla luce di Cristo non è che la luce di Cristo raggiungeva solamente le coscienze nella loro dimensione individuale ma c'era una visione cristiana del vivere economica politica artistica musicale letteraria familiare sociale cioè tutti gli aspetti dell'umano e noi questo dovremmo recuperare se farlo sia oggi possibile attraverso un impegno partitico non sta a me dirlo io come sacerdote come appunto impegnato nella dottrina sociale della Chiesa posso dire che certamente anche l'ambito diciamo partitico politico necessita di questa prospettiva forse ci sono anche altri ambiti potrebbe per esempio quello dei corpi quelli che la dottrina sociale della Chiesa chiama corpi sociali intermedi quindi le associazioni i gruppi le comunità locali i movimenti le categorie professionali le stesse aziende se ben vissute cioè c'è una pluralità di vita sociale che andrebbe in qualche modo ripensata dentro una visione integrale dell'uomo e ovviamente illuminata dalla divina rivelazione questa è l'ambizione un po' da sempre della dottrina sociale della Chiesa cioè portare la verità portare la luce di Cristo portare l'idea di ordine naturale delle cose in tutti gli ambiti in cui l'uomo vive in società siano essi appunto un'azienda una la comunità locale un municipio un'associazione e fin anche la repubblica tutto molto corretto il problema è che poi le decisioni le prende la politica è una politica che esprime delle classi dirigenti che sono formate intorno a idee diverse antiumane e poi si muovono in quella direzione per quanto i corpi intermedi possono provare a fare massa critica in genere chi dà le carte decide anche per chi sta seduto al tavolo però il mazzo ce l'ha lontano Don Cecotti un'ultima cosa ecco forse proprio quello che lei dice può essere interessante nella dimensione della costruzione di coscienze cioè nella formazione cioè i partiti hanno perso capacità di incidere sui progetti storici proprio perché non formano classi dirigenti intorno a un'idea di futuro ma sono più che altro il più delle volte cooptati da altri mondi che sono quelli che davvero indirizzano i nostri tempi se invece si ritornassero a creare dei partiti tradizionali che sono anche dei pensatoi dei think tank dove si studia si elabora pensiero nuovo si cerca di vincere la battaglia più importante che non è quella del numero i numeri cambiano in maniera anche molto repentina ma è quella delle idee se si riesce a costruire un indirizzo nuovo per tempi nuovi che fa breccia nei cuori di tanti magari si riesce poi a cascata a fare quell'operazione di cambiamento delle coscienze di cui prima parlavamo forse sarebbe interessante provare a costruire delle scuole di formazione che aiutino i partiti nuovi più seri a formare classi dirigenti in grado di credere in qualcosa sono perfettamente d'accordo con lei sia nella analisi critica che nella proposta purtroppo i partiti dalla seconda repubblica in poi e forse anche negli ultimi anni della prima hanno abdicato alla componente formativa la componente culturale un tempo i partiti condivisibile o meno che fosse il loro orientamento ideologico ma avevano centrale la dimensione dottrinale cioè se uno fosse comunista socialista liberale repubblicano non so azionista democristiano eccetera c'era dietro questa adesione una visione una dottrina e questa visione questa dottrina venivano anche trasmessa attraverso la formazione dei quadri dirigenti e del personale diciamo impegnato impegnato nel partito questo si è completamente perso ed è un dramma perché noi come lei diceva abbiamo una classe politica che è politica solo perché viene eletta ma in realtà non ha nessuna formazione nessuna dottrina di riferimento o peggio ancora ha una dottrina di riferimento che non è dichiarata cioè è una dottrina di riferimento che viene come diceva lei da altri mondi e poi si incista all'interno di partiti ormai ridotti sostanzialmente a comitati elettorali questa purtroppo è la triste realtà condivido anche la parte propositiva cioè che sarebbe necessario tornare ad una reale formazione politica scuole di formazione e a rimettere al centro la dimensione culturale dottrinale quindi certamente la politica passa attraverso la dimensione organizzativa elettorale eccetera eccetera ma a fondamento di tutto ci deve essere una dottrina ci deve essere un pensiero diciamo in ultima analisi ci deve essere la filosofia noi nel nostro piccolo ovviamente noi non siamo un partito quindi non formiamo quadri dirigenti di partito però nel nostro piccolo tra le attività dell'osservatorio c'è anche quella delle scuole di dottrina sociale della chiesa quindi noi ormai da anni organizziamo delle scuole di dottrina sociale in presenza sul territorio ormai sono diverse le regioni che abbiamo raggiunto il Veneto il Friuli Venezia Giulia la Lombardia la Toscana insomma abbiamo raggiunto diverse regioni e poi anche facciamo una scuola online in collaborazione con la nuova bussola quotidiana che è il noto giornale online cattolico torno solo un attimo sul rapporto perché lei prima diceva della difficoltà anche di veicolare un pensiero cattolico critico eccetera bene quest'anno nel 14esimo rapporto ha scritto oltre all'arcivescovo Crepaldi quello lo fa ogni anno ovviamente in quanto fondatore dell'osservatorio ma ha scritto anche il Cardinale Müller quindi tra i nostri saggi abbiamo anche un saggio del Cardinale Müller questo per dirle che ci sono uomini nella chiesa il Cardinale Müller è uno di questi peraltro autorevolissimo perché prefetto emerito della congregazione per la dottina della fede cioè il successore di Ratzinger al Sant'Uffizio per usare i termini antichi ebbene il Cardinale Müller è uno di questi cioè è uno che pensa criticamente e per esempio sul globalismo sul Great Reset eccetera ha una visione molto lucida e molto critica e quest'anno ha portato il suo contributo appunto al quattordicesimo rapporto ci tengo solo a segnalare agli amici di Visione TV di cui io conosco un po' così le sensibilità perché sono anch'io un utente diciamo così di Visione TV nel senso che la seguo con regolarità e so quanto Visione TV si è impegnata durante la cosiddetta crisi sanitaria la cosiddetta pandemia ecco beh l'osservatorio è un po' un suo vanto è stata forse l'unica realtà l'unico centro studi l'unica realtà diciamo intellettuale cattolica a prendere una posizione molto critica nei confronti di tutta la gestione Covid questo noi l'abbiamo fatto in tempi non sospetti cioè anche nei tempi peggiori quando essere critici voleva dire essere diciamo quasi fucilati sulla pubblica piazza ebbene noi abbiamo avuto sempre un giudizio critico su tutto sulla gestione dell'emergenza sulla campagna vaccinale su tutto io personalmente l'ho anche comunicato con alcuni con alcuni video editoriali che noi facciamo e poi l'ultimo bollettino non so se si può inquadrare eccolo qui ecco il perché noi come osservatorio pubblichiamo anche una rivista che esce ogni tre mesi un trimestrale che si intitola bollettino di dottrina sociale della chiesa l'ultimo numero ha come titolo sanare la sanità uscire dalla società dei pazienti permanenti quindi insomma il titolo è abbastanza esplicativo e contiene all'interno per esempio contributi anche non so per dire di un nome noto come Paolo Gulisano un altro nome noto come Paolo Bellavite insomma abbiamo sentito alcuni e non solo loro c'è anche il teologo benedettino Don Meiatini c'è il teologo Don Zucchelli insomma è un panorama un po' di una riflessione critica sulla sanità quindi questo per dirle che qualcosa bolle in pentola anche nel mondo cattolico non è facile non è facile veicolare questi contenuti al grande pubblico ecco d'altronde un altro degli insegnamenti evangelici è proprio questo non conformatevi allo spirito del mondo anche quando del mondo sembrano far parte persone che dovrebbero testimoniare un punto di vista alternativo grazie a Dolce Cotti per questa bella esaustiva ariosa intervista mi auguro che sia la prima di una serie ecco magari potremmo approfondire anche con gli intellettuali che lei ha citato alcuni aspetti di questo osservatorio possiamo rilanciare le diverse pubblicazioni per avviare insomma un confronto culturale che poi magari insomma può crescere con il tempo chi lo sa grazie a lei e grazie a Visione TV e anche che per me spero che sia la prima di una di una lunga serie perché insomma come dicevo io Visione TV la vedo da spettatore quindi insomma e la vedo e la seguo con simpatia quindi poter ogni tanto così intervenire colloquiare mi può fare solo che piacere grazie grazie a lei per questa sua disponibilità che di certo arricchisce il nostro palinsesto grazie ancora a Don Cecotto grazie grazie a tutti bene cari amici di Visione TV si conclude qui questa nostra intervista grazie per averci seguito come sapete noi non abbiamo finanziatori viviamo solo della libera gratuita gratuita insomma più che altro diretta insomma non mediata generosità dei nostri utenti ci potete aiutare donando i numeri che la regia mi ha dato in sovraimpressione potete andare sul nostro sito www.visione.tv e abbonarvi per rimanere in contatto con me su Telegram cercate Visione TV iscrivetevi al nostro canale sono gli ultimi giorni per riuscire a completare la raccolta firme in Friuli Venezia Giulia in favore del candidato presidente Andrea Zoc aiutateci andando nei comuni di riferimento di quella regione e firmando per la lista di democrazia sovrana popolare e territori liberi grazie ancora una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti